va abbastanza bene, diciamo che più 2-5 diventa favore per me era un po' difficile da gestire però devo imparare anche a correre con queste condizioni, quindi alla fine è andata bene ora ti prepari per quali gari? adesso avrò il primo di agosto a Trieste e adesso in 110 stacoli maschili